Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. E allora, Spalletti non è più ufficialmente l'allenatore dell'Inter. È il tempo dei saluti ed è il tempo dei ringraziamenti. Ci tenevo a fare questo video per ringraziare Spalletti e per analizzare insieme il percorso che ha fatto anche su una visione abbastanza lungimirante di quello che è stato il progetto Inter fino adesso da quando è entrata Suning al timone della nostra squadra. Spalletti prende l'Inter in un momento in cui l'Inter ha bisogno di Spalletti. La fine della stagione 2016-2017, disgraziata, con tre allenatori, in realtà due, con uno ad Interim, con Suning che a metà maggio ribalta tutto e manda via Pioli prima che finisca la stagione. L'accordo con Spalletti era già giunto a conclusione anche se già allora l'Inter cercava Conte con molta vehemenza, anche se non era possibile avere un manager del calibro di Conte per lo meno come lo reputo io, cioè di primo livello, senza le risorse per poter affondare il colpo e andare a dare un senso appunto a quella possibile assunzione di Conte che arriverà poi con due anni di ritardo. Ma tornando a Spalletti, è un mister che esce a testa alta e non è così scontato perché l'ultimo veramente uscito a testa così alta era stato Mourinho, anche se l'Inter nel frattempo si è ridimensionata con le finanze, gli obiettivi, ha avuto un decennio difficile di ricostruzione ma in questo senso Luciano Spalletti ha fatto quello che gli si doveva chiedere. Alcuni avevano già figurato il fatto che sarebbe rimasto due anni per guidare l'ultima parte della transizione dell'Inter, quindi per lui un anno di ricostruzione, ricordo l'Inter arrivava da un nono posto e un disastro praticamente in tutti i reparti, come prima cosa per ricostruire sistema la difesa praticamente da subito, complice anche l'acquisto di Skriniar che rappresenta la sua leva per andare a sistemare il reparto difensivo, gioca il primo anno con Miranda, il secondo anno con De Frey, non cambia il risultato, in realtà la fase difensiva è sempre stata il cavallo di battaglia dell'Inter e personalmente penso che sia il motivo principale per cui l'Inter riesce a raggiungere la Champions League per due anni, per cui il primo anno sicuramente va oltre le possibilità della squadra, a mio modo di vedere, 72 punti su un campionato di livello abbastanza alto per quanto riguarda la corsa alla Champions e quella sensazione, quell'hashtag di Senzatregua che continua ad aleggiare per tutto l'anno sulle, teste di ogni interista e Spalletti aveva capito in quel senso qual era il destino dell'Inter quell'anno, cioè quello di non sedersi mai, quello di essere sempre sulla corda perché questo era l'unico modo per poter arrivare all'obiettivo principale che la proprietà si era posta, i tifosi si erano posti negli ultimi anni, cioè quello della Champions League, per cui un anno quasi interamente di inseguire, in realtà la prima parte l'ha fatta molto molto bene, addirittura 41 punti che è un passo scudetto di fatto, poi i giocatori sono quelli che sono e arriva il classico blackout di gennaio e febbraio, però l'intuizione insomma ferma Brozovic, tira giù Brozovic da un aereo diretto a Siviglia dove era praticamente già stato venduto e nel tempo di un mese e mezzo lo rende uno dei giocatori più affidabili del campionato e un key player, proprio un giocatore chiave di questa squadra e grazie a lui insomma si riesce, anche grazie al suo contributo, si riesce a tirare la volata per quel grande obiettivo Champions, poi vabbè insomma si serve di Cancelo e di Rafinha, comincia a implementare qualche variazione tattica sul suo modulo, grazie a Cancelo che viene aggiunto alla manovra, Spalletti non ha mai avuto grossa flessibilità tattica, però con Cancelo ha capito che ci poteva fare qualcosa di buono, poi c'era anche Rafinha che è stato comunque importante per cui il primo anno la ricostruzione va secondo me anche oltre quelle che erano le reali possibilità dell'Inter che aveva una rosa curtissima, riserve praticamente inesistenti, tre difensori centrali in tutto fatti giocare fino a gennaio, col quarto che era Lisandro Lopez che praticamente è arrivato per fare tappezzeria, ha giocato penso una partita, una partita e mezza e poi il secondo anno in realtà va un po' peggio del primo perché alcune scelte non pagheranno in realtà, alcune scelte da lui ventilate come per esempio quella di Nainggolan che non paga, però comunque sia nonostante qualche azzardo non riuscito l'obiettivo lo centra con molto fiatone ma anche con una moltitudine, una miriade di cose che gli succedono intorno a partire da gennaio in poi e la situazione familiare gravissima di cui nessuno tra i non addetti a lavori almeno ha saputo nulla fino a pochi giorni fa ma che in realtà era veramente molto molto grave riesce comunque a tenere un attimino la barra dritta anche se comincia a perdere un po' di lucidità soprattutto con la stampa, cerca di accentrare l'attenzione su di sé, si lascia un po' andare, pensa un po' meno a quello che deve dire, modifica un po' la strategia comunicativa rendendola molto di più a briglia sciolta. era comunque difficile per tutti recuperare questo genere di giocatori, questo genere di gruppo che ripeto non è un gruppo adatto ad arrivare ad obiettivi più alti di quelli che sono in realtà stati, cioè il piazzamento Champions preso negli ultimi dieci minuti dell'ultima partita in serie proprio due anni di fila, in condizioni ambientali difficili, perde quello che era il miglior giocatore finora ma perché è il miglior giocatore finora a sfilarsi dalla lotta dopo un provvedimento a suo carico che possiamo scrivere come disciplinare e comincia a dover recuperare Perisic che è stato proprio lui a farlo rimanere nell'estate 2017 ma Perisic ogni tanto perde la trevisonda e comincia a dire di volersene andare, comincia a dire di voler cambiare campionato, di voler cambiare realtà, di voler cambiare aria, lo deve recuperare per la seconda volta, dopo averlo fatto nell'estate 2017 lo deve recuperare a gennaio 2019, l'Inter comunque non riesce a girare come dovrebbe però riesce comunque a tirare fuori dal cilindro delle grandi prestazioni come per esempio la partita contro il Milan, il derby di marzo che secondo me sarà assolutamente fondamentale non tanto per l'Inter ma quanto per il Milan per fermare l'onda del Milan e insomma il finale di campionato scivola con diversi problemi e con diversi risultati non andati a buon fine ma alla fine l'obiettivo lo centra quindi Luciano Spalletti lascia l'Inter a testa alta e questa sulla panchina che probabilmente era più difficile d'Italia non è una cosa scontata ed è una cosa che sono un tecnico navigato, capace, abile per quanto riguarda l'ambito ricostruzione di un club può riuscire a fare per cui da parte mia il saluto a Spalletti che esce ripeto a testa altissima dall'Inter il ringraziamento a Spalletti perché se oggi l'Inter può cercare di disegnare un futuro in cui l'asticella viene alzata è perché Spalletti si è fatto il lavoro sporco mettendo le fondamenta, un mister che non sarà dimenticato, un mister che da parte mia riceverà sempre solo applausi quando e se lo ritroveremo ad avversario, un mister a cui d'ora in poi personalmente auguro il meglio nonostante qualche errorino durante la gestione ma voglio dire nessuno è perfetto, non possiamo aspettarci la perfezione da nessuno, neanche dai più grandi, neanche da quelli che hanno fatto le cose migliori sia sulla panchina dell'Inter che altrove, per cui davvero grazie, grazie, grazie a mister Spalletti, oggi non sei più con noi come allenatore dell'Inter ma per quanto mi riguarda insomma sarai sempre un personaggio gradito, quando tornerai a riabbracciare in qualche modo i colori nostri nel momento in cui ci ritroveremo ad avversari io ti saluterò con grandissimo calore e ti sarò sempre grato per aver guidato l'Inter in questa transizione assolutamente cruciale per andare a centrare poi determinati obiettivi nel prossimo futuro. Grazie mister Spalletti e in bocca al lupo per tutto. Questo era il mio pensiero e il mio saluto a Luciano Spalletti, diteci voi come salutate invece voi Spalletti se lo fate come me con ringraziamenti e con quella voglia di dire a questo allenatore che davvero lui ha fatto qualcosa di speciale in questo decennio martoriato per l'Inter oppure se viceversa vi auguravate al più presto un'uscita per motivi che mi scriverete sotto. Noi ci vedremo sempre qui sul canale YouTube per i video offline ma voglio ricordarvi ancora una volta che per quanto riguarda il nostro pezzo forte del canale che erano le cronache live del campionato ma anche delle amichevoli, delle partite di coppa insomma di un po' tutte le partite dell'Inter. Dall'anno prossimo ci trasferiamo su Twitch link in descrizione per accedere al canale e poi insomma con il tempo vi faremo avere tutti i dettagli e tutte le istruzioni anche attraverso l'intervento di Massimo. Grazie ragazzi per la visione di questo video ancora grazie a mister Spalletti per due anni tutto sommato buoni e noi ci vediamo al prossimo video.